Riconosci, stai pianificando un'evasione. Ogni giorno, per 10 minuti, 20, 30, all'uscita del tuo lavoro. Poi sarà un giorno, poi sarà una settimana che non li vuoi più vedere, poi sarà il resto della tua vita. Ma adesso vi rivolgo a quegli stronzi che non suono apprezzare le persone che lavorano per loro, che si fanno il culo e vengono trattati come degli stracci. Li perderete, andranno via, resterete soli, la vostra attività andrà a rotto, vi butterete sulla droga, perderete tutto, sarete voi gli schiavi di qualcun altro. Tutto comincia da 10 minuti d'aria. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.